Sono le 8 del mattino e questa è la nostra colazione. Abbiamo speso 100 pesos a testa per la colazione. Abbiamo omelette, la fetta di pane, una salsa ai fagioli, succo di frutta e prima ci hanno portato due pancake con la frutta che abbiamo già mangiato. Buon appetito! La nave da cruciera della Disney è gigantissima. Allora, stiamo andando, ci stiamo dirigendo verso Playa Palancar che si trova a sud dell'isola e lungo tutta la strada. Praticamente la carretera principale è là in fondo. Questa è tutta la strada da fare per raggiungere la spiaggia e alla nostra sinistra e alla nostra destra sono tutte mangrovie. Eccoci qua, arrivati! Ragazzi, adesso andiamo a vedere com'è l'acqua. È caldissima! È anche pulitissima, direi. Wow! Sono gigantissima! È caldissima! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa sera invece abbiamo optato per un ristorante italiano che si chiama Coben Lab. Allora si inizia con un antipastino offerto dalla casa con focaccia, olio e una salsa con pomodoro, coriandolo e zucca. E qui ora proseguiamo con un tagliolino alla salsiccia. A breve vi faccio sapere. Per finire come secondo anche in Messico ragazzi abbiamo il tagliere di affettati misti con frutta, affettati misti, patè di olive e marmellata di arancia, veramente buona. Da buoni italiani finiamo con il caffè che devo dire è il primo caffè corto che bevo in Messico, grazie a Dio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con questi colori bellissimi, tra l'azzurro turchese, il verde smeraldo, è qualcosa di indescrivibile. Credetemi che a video non rendono. Comunque ultima panoramica per il momento perché ci ritorneremo.